Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Andiamo avanti con l'analisi delle poesie di Giovanni Pascoli e questa volta leggiamo insieme, analizziamo e commentiamo il Gelsomino notturno, la mia poesia preferita in assoluto di tutta la letteratura italiana. Questa poesia è stata composta per Gabriele Briganti, un amico di Pascoli, in occasione delle sue nozze ed è pubblicata nella raccolta Canti di Castelvecchio del 1904. Ora leggiamola insieme. Un pezzo si tacquero i gridi, là sola una casa bisbiglia, sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia, dai calici aperti si esala, l'odore di fragole rosse, splende un lume, là, nella sala, nasce l'erba, sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle, la chiocetta per l'ai azzurra, va col suo piccolio di stelle. Per tutta la notte si esala, l'odore che passa col vento, passa il lume su per la scala, brilla al primo piano se spento. E l'alba, si chiudono i petali, un poco gualciti, si cova, dentro l'urna, molle e segreta, non so che felicità, nuova. All'imbrunire, i gelsomini aprono la loro corolla. In quest'ora, quindi l'ora tarda, il poeta ripensa ai suoi cari. I suoi cari sono i suoi defunti, i suoi morti. Appaiono in mezzo ai viburni, che sono degli arbusti dai fiori bianchi, le farfalle crepuscolari, le cosiddette falene, le farfalle lotturne. Ormai i gridi degli uccelli, quindi il rumore degli uccelli, ormai non si sente più. L'unico rumore che viene percepito sono i bisbigli di una casa. I bisbigli all'interno di una casa. Nel silenzio notturno, soltanto questa casa, che risuona di voci umane, che però sono dei sussurri, tradisce la presenza di qualcuno. I piccoli degli uccelli, i nidi, dormono protetti sotto le ali dei loro genitori, come gli occhi sotto le ciglia. Dalla corolla aperta del gelsomino si sprigiona un profumo, un profumo meraviglioso, che ricorda quello delle fragole mature. Là, nella casa, di cui già abbiamo parlato prima, la casa dove ci sono le voci umane e i bisbigli, splende un lume, una luce, nella sala. Nasce l'erba, sopra le fosse, le fosse che sono le fosse dei cari, dove i defunti sono stati sepolti. C'è un'ape che è tardiva, quindi in ritardo, si aggira e sussurra. Sentiamo il suo ronzio e si sta avvicinando all'alveare, che però trova ormai tutto occupato. Nessuna cella è libera per quest'ape, un po' ritardataria. La chiocetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. I contadini chiamavano la chiocetta la costellazione delle Pleiadi. Pascoli riprende questa immagine e paragona un cielo ad un'aia dove c'è una chioccia con i suoi pulcini che la seguono. Lo sciame luminoso è come se richiamasse il pigolio. Troviamo quindi una sinestesia, l'accostamento di due sensi diversi, la vista, dello sciame, e il pigolio, quindi l'udito. Per tutta la notte il profumo viene diffuso proprio dal vento. Il lume passa dalla sala, quindi la luce passa dalla sala, alla scala, arriva al primo piano e poi si spegne. È l'alba e i petali dei gelsomini sono ormai un po' appassiti e si chiudono. Ma nell'ovario molle all'interno di questa corolla chiusa c'è il polline che lo ha fecondato. Il fiore viene accostato alla donna, la donna fecondata che sta covando, di fatto, e sta contenendo una felicità nuova. Questo componimento è dedicato, come abbiamo detto, alle nozze di Gabriele Briganti ed evoca la prima notte di nozze di Gabriele Briganti in cui è stato concepito il figlio Dante Gabriele Giovanni. Emergono dei temi che già abbiamo anticipato. La casa nuziale, il fiore e l'invito all'amore, una visione turbata del sesso, il legame con i morti e il nido. Abbiamo visto che il gelsomino si chiude al calare della sera e rimanda al rito umano. Questo aprirsi della corolla è una sorta di invito all'amore. Anche il colore rosso allude alla sensualità e si fonde con il profumo delle fragole. All'alba, compiuta la fecondazione, i petali delle fiori sono un po' gualciti, si chiudono. Emerge una sorta di vagheggiamento di Pascoli che mostra sia un desiderio verso il rito amoroso ma è anche un po' turbato. Non dimentichiamoci che Pascoli si paragona probabilmente a quella pina un po' tardiva che trova l'alveare ormai tutto occupato e non ha più una celletta per sé. Pascoli di fatto contempla tutto questo rito dall'esterno e fuori dalla casa vede le luci, sente i sussurri, i bisbigli. Di fatto è escluso da questo rito anche se lo celebra. Ricorrono oltre al tema del nido anche le immagini mortuarie. Abbiamo visto i fiori notturni si aprono e Pascoli pensa ai suoi cari oppure cresce l'erba sopra le fosse dove sono sepolti i morti. Ritorno anche le immagini del nido. Sotto l'ali dormono i nidi, le api chiuse nelle loro celle e la chiocetta va per l'aria col suo pigolio di stelle. È come se si creasse una sorta di contrapposizione tra le immagini del nido e le immagini invece della casa in cui avviene il rito di fecondazione. Questo componimento a differenza del 10 agosto è un grandissimo esempio del simbolismo pascoliano. Spero che questa poesia vi sia piaciuta vi ricordo di sostenere il canale lasciare un mi piace ed iscrivervi per nuovi video. Grazie a tutti.